Dottoressa Persi, è già partito il corso di formazione per OSS organizzato dalla COFUR. È un corso che si tiene tramite la FAD, che in questo momento è l'unica metodologia che si può fare in questo momento e voi in questo senso vi siete fatti trovare pronti, quindi non interrompendo la vostra attività da formatori. Sì, assolutamente sì. La COFUR si adegua alle nuove direttive della normativa di contenimento di contagio Covid-19. Ci siamo infatti subito adeguati alle nuove richieste, quindi abbiamo comunque dato risposta alla grande esigenza che ci veniva da tutti coloro che in possesso del titolo di accesso volevano specializzarsi in operatore sociosanitario. Così abbiamo richiesto subito autorizzazione all'assessorato alla sanità perché ci venisse concessa autorizzazione per partire in FAD sincrona, così come il IDG 304 del 2020 prevede. In questo momento quanto durerà la formazione a distanza dei vostri allievi? Allora in questo momento il corso OSS per quanto riguarda la parte in aula, in presenza, diciamo che non si può fare, sarà tutta effettuata attraverso la FAD. Il corso avrà una durata di 420 ore totali, 180 verranno fatti appunto in FAD, il resto, 240 ore, verranno eseguiti attraverso tirocini all'interno di strutture sanitarie e socioassistenziali del territorio. Quanto è importante in questo momento fornire delle figure professionali così specializzate in questo contesto di pandemia, proprio la figura dell'OSS è una figura che va a collaborare in ambito ospedaliero e non solo, comunque quanto è importante in un momento di emergenza sanitaria? Fondamentale, fondamentale per questo che abbiamo voluto a tutti i costi poter partire tantissimi gli avvisi di reclutamento di questa figura che partono, vengono banditi da tantissime strutture ospedaliere del territorio, non ultimo all'ospedale civico. Molte, molte, molte richieste perché c'è bisogno, c'è bisogno di questa figura, una figura che collabora in equip alla presa in carico del paziente, del paziente che con limitata autonomia sia psichica che motoria, ha bisogno chiaramente di chi lo assiste nelle attività della vita quotidiana. Quindi fondamentale oggi il ruolo dell'OSS è sempre di più. Chi può partecipare ai vostri corsi? Allora, il corso OSS è un corso di riqualifica, di specializzazione, a cui possono accedere tutti coloro che hanno già acquisito un titolo OSSA, operatore socioassistenziale. Quindi il titolo ad accesso era questo, adesso facendo queste 420 ore, queste persone potranno accedere a concorsi pubblici e entrare nelle strutture pubbliche. La vostra attività di formazione, che altri tipi di corsi prevede? In questo momento ne avete attivato uno, è una cosa appunto, abbiamo detto, uno dei primi a partire in tal senso, ma solitamente che tipi di corsi fornite oltre a questo? Noi siamo un ente accreditato alla Regione, come ente di formazione professionale, sono stati tantissimi i corsi che abbiamo presentato nell'ultimo anno e che sono stati approvati. Siamo in attesa di autorizzazione per formare altri OSSA, operatori del turismo, ASACOM, assistenti alla comunicazione, siamo un'agenzia per il lavoro e anche da questo punto di vista stiamo aspettando il bando di garanzia giovani per dare via a tutte quelle misure di inserimento lavorativo che sono previste, non solo tirocini, ma anche corsi gratuiti di inglese, di informatica, con certificazioni annesse per tutti coloro che non lavorano, che non studiano e che vogliono in qualche modo essere aiutati da questi aiuti statali che vengono messi proprio a disposizione per l'agevolazione dell'inserimento lavorativo. In questo momento ci sono tante persone in difficoltà, chi ha perso il lavoro, chi magari ancora è in uno stato di mancata occupazione. Qual è il primo approccio che voi avete con chi vuole intraprendere un corso di formazione di questo genere? A chi si può rivolgere? Allora noi ci rivolgiamo a tutti coloro che hanno voglia di formarsi, tutti coloro che vogliono appunto far parte di qualche misura di inserimento lavorativo. Quindi la prima cosa che facciamo è la valutazione del bisogno formativo, quindi la persona viene qua, noi facciamo alla persona il cosiddetto counseling orientativo, quindi capiamo qual è il suo bisogno primario, diamo un mentaio di scelte, di possibilità di scelta e da lì appunto indirizziamo la persona a quella che è la misura che riteniamo sia la migliore per quella persona.